Sì, sono tra i casagli che mi hanno scelto per la casa del sindaco. Accolgo un'eredità molto pesante e spero di riuscire, nell'intento, di essere il sindaco di tutti. È una cosa che ci tengo a dire, l'ho anche detto nei giorni scorsi. Quindi mi impegnerò moltissimo per fare questo. Ringrazio tutta la squadra che in questi mesi mi ha sopporto.